E' Giuseppe Vella il nuovo presidente per l'anno sociale 2010-2011 del Lions Club Agrigento Chiaramonte. Il nuovo anno sociale del Club Agrigento Chiaramonte con il passaggio della campana inizia una nuova esperienza, inizia un lavoro importante sicuramente, questo almeno rientra nei nostri desideri. Un lavoro importante perché si vuole affermare un ruolo dei Club dei Lions perché siano di supporto in questa struttura sociale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.